Noi non ce lo ricordiamo, anche i nostri genitori magari l'hanno rimosso, non se lo ricordano più, ma fino al 1970 il sale in Italia si poteva comprare solo in apposite rivendite, quelle di sali e tabacchi. Il sale è ovviamente un alimento essenziale, lo è stato per buona parte della nostra storia, per la conservazione dei cibi e pertanto era preda delle pretese monopolistiche dei governi. Poi un bel giorno da una parte la nostra adesione alla comunità europea e dall'altra il frigorifero hanno fatto giustizia di queste pretese monopolistiche e devo dire con una certa soddisfazione non solo di chi ha cominciato a poter vendere il sale, ma soprattutto dei consumatori. È più o meno 40 anni quindi che il commercio in Italia si va liberalizzando. Vi sono stati dei passi importanti in quella direzione negli anni 90 e poi da ultimo il governo Monti ha liberalizzato gli orari di apertura. Liberalizzare gli orari di apertura non significa che tutti i negozi, che tutti gli esercizi commerciali sono obbligati a stare aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma significa che i diversi esercenti e i commercianti possono decidere quando aprire e quando invece chiudere considerando anche le esigenze della loro clientela. Cercheranno quindi di stare aperti quando ritengono che si possono fare più affari, che le persone abbiano tempo per andare a fare shopping piuttosto che per fare la spesa. Ovviamente questa innovazione della liberalizzazione degli orari è stata molto ben accolta dai consumatori, soprattutto dalle persone che lavorano e che hanno per la prima volta avuto la possibilità non di fare la spesa in alcuni momenti rubati alla loro giornata lavorativa, ma invece con calma per esempio durante il weekend eccetera. E tuttavia questo Parlamento sta discutendo una proposta che reintrodurrebbe 12 giornate di chiusura obbligatorie. Di queste la metà sarebbero definite dai sindaci, quindi vi sarebbero variazioni a livello locale. Questa è una proposta che non fa bene ai consumatori e non fa bene all'economia italiana. Gli economisti discutono molto e non sanno bene come si faccia a uscire dalla crisi, come si faccia a tornare a crescere. Però di una cosa siamo ragionevolmente sicuri, noi potremo uscire dalla crisi, potremo tornare a crescere se andiamo a moltiplicare le occasioni nelle quali è possibile fare degli scambi, vendere, comprare, provare a creare ricchezza. Ora è davvero masochistico che il Parlamento con questa legge voglia ridurre le occasioni nelle quali potremo provare a creare ricchezza nel nostro Paese.